La nostra pagina dedicata all'attualità è con noi l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini e del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Stanno entrando nel nostro studio, buonasera. Buonasera Ferruccio De Bortoli, buonasera Massimo Giannini, accomodatevi. Allora, intanto grazie per questo anno insieme a voi e a tutti i vostri colleghi che ci hanno accompagnato e grazie soprattutto per quelli futuri. Dunque, la questione della settimana è il caso giudiziario in Liguria e quindi chiederei banalmente a entrambi che idea vi siete fatti di questa vicenda. Michele Serra ha detto delle cose secondo me molto importanti all'inizio perché la questione morale nel vero senso della parola precede i fatti ma i fatti per quanto ancora da chiarire, ancora non del tutto accertati insomma i fatti consentono comunque un'opinione. Prego Ferruccio. Ferruccio. Ma quello che emerge è una contiguità, un rapporto incestuoso tra il mondo della politica e il mondo degli affari. Evidentemente in Liguria ma immagino anche in altre regioni insomma esiste un sistema di potere e probabilmente da quello che sta emergendo da queste inchieste insomma i rapporti sono stati quantomeno opachi. dopodiché non sono emerse ancora delle responsabilità personali bisognerà vedere bisogna essere anche diciamoci la verità molto prudenti assolutamente perché abbiamo visto in questi anni tante inchieste che poi si sono No, sono moltissimi i precedenti, però proprio di Presidente di Regione. Ecco quindi dobbiamo essere non garantisti ma iper garantisti. Emerge comunque diciamo nella contiguità quasi familistica tra il mondo degli affari e il mondo della politica un problema che va al di là diciamo delle responsabilità personali. Io non credo che Totti abbia avuto dei vantaggi personali. Io non ci credo conoscere, non ci credo. Poi bisogna anche dire ci sono grandi opere se concentrata una massa straordinaria di capitali proprio a Genova, in Liguria insomma e probabilmente sempre diciamo in quest'ottica garantista dovendo farli quei lavori bisogna premere su quelle persone e il potere è lì e quindi quando tu premi questi ti chiedono qualcosa. Poi esiste un ragionamento che dovremmo fare senza la pressione degli avvenimenti. Come si finanzia la politica in Italia? Perché questo è un altro grande tema. Perché poi voglio dire l'imprenditore che dà legittimamente in maniera trasparente un finanziamento ad un esponente politico lo fa per una liberalità senza interessi? No, ovviamente. Ed è chiave che quindi è un rapporto di scambio anche se non c'è un elemento di corruzione. Questo discrimine è estremamente difficile da tracciare. Io penso dopo tanti anni, cambiando idea rispetto a quello che pensavo molti anni fa, che bisognerebbe ritornare al finanziamento pubblico. Ecco, infatti era proprio lo spunto che volevo proporre Massimo Gianni. Io sono ipergarantista, anche più ipergarantista di De Bortoli e mi auguro che naturalmente non ci siano mai responsabilità personali perché non è mai da augurarselo per nessuno. Ma insomma c'è un'ipocresia di fondo, sta dicendo De Bortoli sostanzialmente. Quell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti non poteva che generare quello a cui stiamo assistendo. E ripeto, fatto salvo naturalmente reati che eventualmente verranno accertati ma al momento, laddove non si vince un vantaggio personale quello è il grande tema. Non c'è dubbio, se è vero, come sembra, parliamo solo di Toti che se c'è stato un bottino che è stato in qualche modo attinto a gruppi di imprenditori, poi concessionari nel porto di Genova, eccetera sarebbe tutto finalizzato al finanziamento della campagna elettorale. Questa è l'ipotesi che sembra emergere, almeno in carico, a Giovanni Toti. Allora, ritorna il vecchio tema, la dico in modo spiccio nel modo in cui il populismo ci ha abituato a dirlo in questi anni fino ad arrivare all'abolizione del finanziamento pubblico perché quella era la casta e quindi doveva morire. Cioè rubano per il partito, rubano per sé? Questa era la grande domanda. No, ecco qua, ammesso e non concesso che si possa parlare di rubare lo si fa per la campagna elettorale, quindi non è un arricchimento personale anche se, apro e chiudo parentesi, purtroppo quando l'abbiamo ascoltato e letto sulle intercettazioni un imprenditore che ha attività di vario genere come Spinelli dice ci sta arrivando e ci è arrivata una barcata di soldi e purtroppo i soldi poi anche dal punto di vista dei comportamenti delle persone su quel benedetto yacht, lei, la due, ci andavano tutti abbiamo poi scoperto, persino quelli di sinistra ci andavano prima. È anche normale onestamente parlare con gli imprenditori di un territorio e sarebbe meglio, stavo dicendo, sarebbe meglio farlo in una sede istituzionale piuttosto che nello yacht dell'imprenditore sarebbe diciamo più opportuno dove scorrono fiumi di champagne, dove si ordina il caviale ma anche forse la Stemi insomma è uguale insomma sarebbe meglio farlo ecco però detto questo poiché appunto si vuole finanziare la campagna elettorale allora il tema di fondo è di nuovo come si finanzia la politica? Io su questo sono persino più diciamo talebano se mi si passa il termine di ferruccio cioè anche io tornerei al finanziamento pubblico però io abolirei i finanziamenti privati io li abolirei proprio perché qual è il problema di questi anni? In questi anni noi abbiamo visto attraverso goffi tentativi di regolamentarla una disciplina che contemplava l'utilizzo delle cosiddette fondazioni che sono enti ai quali contribuiscono privati attraverso i quali si finanziano politici o partiti quella è una zona grigia all'ennesima potenza e allora aboliamo anche quelli la politica costa se vogliamo una politica di qualità la dobbiamo finanziare perché altrimenti succede quello che stiamo vedendo cioè ci si arricchisce in proprio e ci si finanziano le campagne elettorali basta dobbiamo cercare di dare qualità ridare qualità a questa politica senza partiti la democrazia non c'è quindi basta dire fanno tutti schifo tutti in galera non è così infatti speriamo che la stagione del qualunquismo in qualche modo venga attenuata purtroppo non credo però insomma comunque tutto questo secondo voi può rallentare la riforma della giustizia voluta da Nordi o al contrario invece l'accelerrà? non mi sembra che sia una delle grandi urgenze del governo di centrodestra insomma da quello che emerge insomma sì naturalmente spingono per la separazione delle carriere che è una battaglia storica del centrodestra però su questo personalmente vedo Nordi abbastanza isolato tant'è vero che partecipando all'Assemblea dell'Assemblea nazionale dei magistrati è stato molto più prudente e anche più così vicino diciamo a quelle che sono le istanze bisogna vedere che tipo tra l'altro una riforma della giustizia è anche uno strumento attraverso il quale la maggioranza può avere dei sostegni al di fuori del proprio schieramento per cui da questo punto di vista però dobbiamo vedere dei testi dobbiamo vedere qualcosa di più concreto invece è cominciato in Senato l'ita della riforma del premierato il PD si oppone sia al premierato che all'autonomia differenziata con i corpi e con le parole ha detto la Schlein il 2 giugno farà la manifestazione a Roma a meno che non si risolva tutto da Vespa e può essere che poi si parli e si risolva tutto lì e pensi che una diversa legge elettorale potrebbe rendere accettabile anche per la sinistra del premierato? No, allora qui siamo dentro quello che io definirei il grande baratto perché è evidente quello che è successo nel governo e nella maggioranza delle tre destre ciascuno dei tre partiti ha a cuore una di queste pseudo riforme quella della giustizia sta a cuore soprattutto a Forza Italia essenzialmente la separazione delle carriere l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale erano tutti cavalli di battaglia di Berlusconi per essere chiari l'obiettivo poi fondamentalmente se declinato così è quello di punire i magistrati e di mettergli la mordacchia rispetto alle attività che possono disturbare la politica e qua c'è secondo me l'aspetto più discutibile di tutta questa vicenda perché io penso che la giustizia vada riformata ma va riformata nell'interesse dei cittadini perché i processi durano anni troppi anni i tribunali sono inefficienti troppo inefficienti quella è la riforma da fare non separare le carriere di cui un cittadino normale che paga sulla propria pelle la mala giustizia neanche si accorgerebbe non gli cambierebbe niente fatela per noi la riforma e allora vi diciamo sì questa è la prima parte del baratto poi c'è il premierato l'elezione diretta del presidente del consiglio che sta a cuore a Giorgia Meloni a Fratelli d'Italia e da ultimo l'autonomia differenziata cioè le regioni ricche che fanno da sé a spese delle regioni povere che sta a cuore alla Lega questo è il grande baratto sul premierato non c'è materia per discutere non lo so a meno che non ce la spiegano Pupo e Iva Zanicchi come hanno provato a fare l'altro giorno ecco io direi che ma chiunque la spieghi è benvenuto una riforma che rimette rimette in discussione un caposaldo delle nostre regole del gioco io la vorrei far spiegare da qualcun altro ecco non da Pupo e da Iva Zanicchi ma questa qui in particolare soprattutto se collegata a una legge elettorale che ancora non c'è non abbiamo testi però si è parlato di un super premio di maggioranza del 55% no collegata a questo alla riforma del premierato se metti insieme le due cose il presidente del consiglio diventa il capo d'Italia decide tutto quello che vuole io una riforma così francamente poiché amo la costituzione del 48 non la vorrei per il mio paese vorrei continuare a vivere in una democrazia e non in una autocrazia elettiva quindi non credo che ci sia possibilità di dialogo su questo Ferruccio sei d'accordo? ma io sono assolutamente d'accordo tra l'altro si potrebbero concordare tra maggioranza e opposizione alcuni aggiustamenti che possono rafforzare se vogliamo il potere del presidente del consiglio per esempio su tutto il tema dello scioglimento o per esempio sul tema della fiducia scostruttiva insomma cioè sul modello tedesco che potrebbe essere diciamo una soluzione poi c'è questo equivoco che io trovo insopportabile siccome questa riforma tocca i poteri del capo dello Stato continuare a dire che non li tocca è persino offensivo nei confronti del capo dello Stato ma anche nei confronti soprattutto la tocca per forza è pensabile che non sia così senti Ferruccio giovedì la ministra per le pari opportunità Eugenia Roccella è stata contestata duramente durante gli stati generali della natalità no le si è impedito di parlare si è parlato di censura alcuni hanno ricordato che cosa diversa è la censura che deriva dal potere altra cosa è la contestazione che si fa nei confronti del potere volevo capire la tua opinione la censura viene dall'alto evidentemente poi ovviamente c'è la contestazione che ovviamente deve deve svolgersi in maniera diciamo civile insomma io credo che sia stata gestita male perché comunque si poteva dopo aver ascoltato le ragioni di chi protestava consentire giustamente alla ministra di svolgere il proprio intervento cosa che non è che non è avvenuto e quindi questo ovviamente come peraltro ha sottolineato il capo dello Stato che è intervenuto giustamente poi si è tolto diciamo la libertà di parola alla ministra in quella circostanza insomma io penso che si potrebbero gestire meglio questi avvenimenti e poi la ministra ha deciso di andarsi come peraltro aveva fatto in una precedente occasione peraltro con il Salone del Libro dell'anno scorso posso dire una cosa su questo Fabio perché a costo di correggere le cose che si sono dette lette e scritte in questi giorni alla ministra è stato impedito di parlare io non sono convinto neanche di questo lei era su un palco con un microfono 15 ragazzi stavano in fondo alla sala e protestavano gridavano se lei avesse continuato a parlare con il suo microfono non se ne accorgeva nessuno cioè si sentiva lontanamente un po' di proteste quello non vuol dire le hanno impedito di parlare è un'altra cosa è per questo che oltretutto non parlerei mai di censura in quel caso poi cosa scatta è questo che mi preoccupa è un dispositivo diventa un modus operandi no? cioè qualunque dissenso che sia espresso attenzione perché il discrimine è la violenza o la non violenza quella è stata una protesta non violenta e quindi questo cambia tutto perché se la protesta è violenta è inaccettabile quella non è stata una protesta violenta ma comunque qualunque forma di dissenso fa scattare il meccanismo che sono o i manganelli o la vittimizzazione perché lì la ministra Orcello ha detto ecco non mi hanno fatto parlare Meloni ha detto i veri fascisti sono loro che impediscono di parlare non è così non funziona così io cito soltanto questo esempio perché l'altro nel giorno in cui è successo questo noi abbiamo mandato questo video andatevelo a cercare su Youtube è magnifico Sandro Pertini presidente della Repubblica bellissimo l'hai visto? come no ecco lo racconto in tre secondi perché è bello lui va in un'università a parlare un gruppo di studenti lo comincia a contestare uno in particolare uno lui si alza i piedi sul palco lo chiama gli fa vieni qui allora adesso te lo imito pure adesso spiegami che cos'è contro di me che cosa c'è nella mia brigofea che non va bene perché ce l'avete con me perché non mi volete bene questo parte un battibecco eccetera vanno avanti e lui li incalza ragiona la cosa più bella che a un certo punto arriva il rettore che se lo vuole portare via e lui dice mi chiamo Pertini sono impertinente esatto io sono Pertini io sono ribelle impertinente mi lasci parlare ecco il dissenso non violento e non solo gli dice lei può contestare il presidente della Repubblica perché io ho fatto la resistenza esattamente questa è la cosa più bella no alla fine è proprio questo il punto se il dissenso non è violento chi governa deve imparare ad accettarlo non può reagire dicendo ecco chi sono i veri fascisti hai fatto un paragone improponibile totalmente improponibile lo so mentre lo facevo mi veniva la pelle d'oca sentite io vorrei chiudere e ringraziarvi ancora una volta con l'argomento insomma che abbiamo ci eravamo impegnati a non dimenticare speravamo in realtà che si potesse trascurare ma purtroppo la cronaca invece lo rende drammaticamente continuamente attuale no i cinque operai uccisi dalle esalazioni nella rete foniaria di Casteldaccia vicino a Palermo erano senza maschere nessuno di loro aveva dispositivi di sicurezza né soprattutto una preparazione adeguata per compiere quel tipo di interventi e insomma torna di drammatica attualità al tema dei controlli degli appalti della formazione uno di loro aveva 71 anni che è inconcepibile insomma ecco io vorrei chiedervi un commento a questa vicenda e con questa ci lasciamo per questa stagione guarda ne abbiamo parlato in un'altra occasione di fronte a queste tragedie del lavoro le dimentichiamo colpevolmente troppo spesso subito allora io spero che come peraltro la ministra Calderone impegnata si possa avere più ispettori del lavoro però io mi aspetterei di leggere su un giornale una notizia di questo tipo cioè che un lavoro è stato ritardato perché non c'erano le condizioni di sicurezza dei lavoratori ecco quando mi troverò di fronte vorrò capire che è cambiato un po' qualcosa nella cultura e nel rispetto dei diritti e della sicurezza dei lavoratori sì aggiungo questo è verissimo quello che dice Ferruccio ce li dimentichiamo subito e la prova l'abbiamo avuta ieri ieri è morto un altro operaio nel Trapanese guardate i giornali oggi lo dico in modo autocritico in quasi tutti i giornali è una notizia di 15 righe qualcun altro ha fatto un taglio basso questo è inaccettabile ma conferma e dimostra quello che stiamo dicendo e cioè che questa è una guerra che chi lavora non ha combattuto e che però in quella guerra perde la vita alla quale noi ci siamo a sue fatti noi tutti tutti ci siamo tutti a sue fatti e non possiamo far altro che cercare di scuoterci e unirci all'appello sacro santo al quale ci richiama la più grande istituzione di questo paese che è Sergio Mattarella non si può più morire di lavoro come dice Stefano Massini un tempo si diceva mi vado a guadagnare da vivere oggi chi lavora molto spesso si va a guadagnare da morire basta grazie Massimo Giannini a Ferruccio De Bortoli andiamo in pubblicità